Musica Domani l'incontro tra Ministero, Glencore e Sindacati sulla Portovesma SRL. Sindaco e Amministrazione Comunale di Porto Scuso intanto esprimono le loro valutazioni sugli sviluppi dell'avvertenza. Interpellanza del deputato Matteo Richetti sull'arrivo del gas in Sardegna. Il parlamentare sollecita un incontro tra Ministero e Regione per evitare che i continui rinvii abbiano effetti irreversibili sul tessuto produttivo e sociale dell'isola. Nuove risorse della Regione a sostegno delle imprese penalizzate dalla pandemia. L'aiuto avrà un importo massimo di 50.000 euro per le medie e grandi imprese. Il Carbonia ha frenato la marcia della capolista Budoni in eccellenza. Un gol di Giuseppe Meloni al 92esimo ha salvato la squadra di Raffaele Cermone dalla sconfitta dopo il gol di Ayrton Hunt al ventesimo del primo tempo. Ben ritrovati anche per questa edizione serale del nostro telegiornale che apriamo ancora con le problematiche del lavoro e in particolare con l'avvertenza delicata, avvertenza della Portovesma SRL. I lavoratori della Portovesma SRL vivono ore di attesa per l'incontro in videoconferenza che è in programma domani mattina a venerdì 3 marzo tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato dal Ministro Adolfo Urso, la Glencore e le organizzazioni sindacali, convocato dopo la clamorosa iniziativa messa in atto tre giorni fa da quattro lavoratori che si sono asserragliati sulla ciminiera dell'impianto KSS per smuovere la situazione di grave emergenza in cui vivono ormai da mesi che rischia di precipitare se non verranno trovate soluzioni in grado di attenuare i problemi causati dal caro energia. Ieri sera intanto l'amministrazione comunale di Portovescuso ha diffuso una nota nella quale esprime le sue valutazioni sugli sviluppi dell'avvertenza. Vediamo i particolari nel servizio. Il sindaco Ignazio Azzori e l'amministrazione comunale di Portovescuso hanno ribadito la loro preoccupazione per la grave situazione sociale e di ordine pubblico che si sta determinando a causa della decisione definita unilaterale della Portovesma SRL di perseguire nel suo intento di fermare la linea Piombo con la conseguente fuoriuscita dal ciclo produttivo di oltre 400 lavoratori tra diretti e indiretti e tra questi 60 lavoratori interinali che non potranno godere di alcun ammortizzatore sociale. Tale decisione unilaterale, aggiungono il sindaco Ignazio Azzori e l'amministrazione comunale di Portovescuso, ci appare abbastanza forzata considerando il netto miglioramento dei costi energetici e delle sue prospettive future oltre al prezzo dei metalli sempre remunerativo. Considerando inoltre, sottolineano, la piena vigenza del provvedimento normativo del credito d'imposta, la Portovesma SRL può ragodere di un prezzo medio a megawattora intorno ai 90 euro. In prospettiva futura l'azienda prefigura inoltre lavorazioni sostitutive che certamente potrebbero impattare pesantemente sull'ambiente e sulla salute pubblica oltre che degli stessi operai, peggiorando i problemi già presenti sul nostro territorio. L'amministrazione comunale di Portovescuso aggiunge ancora la nota nel ribadire il pieno e convinto sostegno a tutti i lavoratori coinvolti in questa, come nelle altre avvertenze che riguardano il polo industriale ricadente interamente sul proprio territorio, vuole anche chiarire pubblicamente rispetto a quanto già anticipato all'azienda che pur senza pregiudizi nei confronti di nuove iniziative non ci potrà essere nessun sostegno rispetto a ipotizzate future lavorazioni che non garantiscano la piena tutela dell'ambiente e della salute pubblica, così come non ci potrà essere nessun sostegno, neanche preliminare, aggiungono ancora il sindaco e l'amministrazione comunale di Portovescuso, ad iniziative che non garantiscano la continuità produttiva e la tutela di tutti i lavoratori interessati, diretti, indiretti e interinali. Ogni tentativo di mancata condivisione delle scelte strategiche che riguardano poi direttamente o indirettamente le ricadute ambientali e di salute pubblica sarà contrastato dal Comune di Portovescuso in tutti i tavoli istituzionali e nelle eventuali conferenze di servizio. Il Comune di Portovescuso, che ospita da ormai 50 anni le lavorazioni del settore piombo-zinco, conclude la nota del sindaco Ignazio Azzori e dell'amministrazione comunale di Portovescuso, pur continuando a dare la massima condizionata disponibilità all'azienda per il proseguo e la diversificazione dell'attività produttiva, propone inoltre di invitare il top management del gruppo Glencore per affrontare le tematiche e le prospettive che interessano la comunità, l'area industriale di Portovesme e l'intero sulcisiglesiente. Sono stati revocati i licenziamenti dell'impresa Sulcis Service. L'accordo sottoscritto ieri prevede una cassa integrazione guadagni ordinaria per 13 settimane. Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dalle segreterie dei metalmeccanici FIOM, FSM e Wilm che vedono revocati gli annunciati licenziamenti. Sicuramente un importante risultato, si legge in una nota da attribuire alla massiccia iniziativa messa in campo dai lavoratori che sta permettendo di affrontare questo difficile momento mantenendo perlomeno i lavoratori in forza alle loro aziende in attesa della ripresa produttiva e occupazionale che si attende possa avere sviluppi dall'incontro in programma domani venerdì 3 marzo già ricordato tra la Glencore, le organizzazioni sindacali ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'avvio di un tavolo di confronto tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Sardegna per trovare una soluzione che acceleri le procedure necessarie a garantire l'approvvigionamento di gas naturale in Sardegna e in particolar modo a Portovesme è stato richiesto con un'interpellanza dal deputato Matteo Ricchetti del gruppo Azione Italia Viva. Vediamo i particolari nel servizio. Il deputato di Azione Italia Viva, Matteo Ricchetti ha presentato un'interpellanza al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sulle problematiche legate al DPCM Energia dopo il rinvio del pronunciamento del Consiglio di Stato al 16 novembre 2023 sul ricorso presentato dalla Regione Sardegna in modo da consentire nei prossimi nove mesi alla stessa Regione e al Governo le necessarie interlocuzioni per arrivare alla revisione dei contenuti dello stesso decreto. A quanto si apprende, scrive Matteo Ricchetti le istanze dell'Esecutivo regionale sono volte, tra le altre cose, ad estendere la perequazione tariffaria a tutte le infrastrutture di distribuzione gas non solo quelle con cantieri avviati alla data di pubblicazione del DPCM a non escludere la possibilità di realizzare la dorsale e di convertire a gas le centrali a carbone di Fiume Santo e Sulcis a spostare la FSRU di Portovesme con ipotesi Cagliari a consultare maggiormente Regione e denti locali per la localizzazione degli impianti rinnovabili e a prevedere la possibilità di riconoscere royalty sul modello della Basilicata per i grandi impianti che trovano e soprattutto troveranno ubicazione nella Regione scrive ancora Matteo Ricchetti si tratta tuttavia di proposte ancora da definire e coordinare con quanto previsto dagli scenari Snam-Terna per la Sardegna e con le decisioni a riguardo della Rera unica conseguenza concreta nel frattempo sottolinea ancora Matteo Ricchetti è lo stand-by del progetto di metanizzazione dell'isola affidata per ora al solo deposito IGAS di Oristano da 9.000 metri cubi liquidi già attivo dal maggio 2021 come affermato la Confindustria Sardegna il rinvio rischia di paralizzare definitivamente soluzioni fondamentali e non procrastinabili per la sopravvivenza del tessuto economico e produttivo sardo al contrario, conclude Matteo Ricchetti occorrerebbe dare una sollecita attuazione al DPCM per scongiurare sospensioni o chiusure di attività strategiche di grande impatto economico e occupazionale Matteo Ricchetti chiede se il Ministro intende avviare e in quali tempi un tavolo di confronto con la Regione Sardegna per trovare una soluzione che acceleri in primis le procedure necessarie a garantire l'approvvigionamento di gas naturale in particolar modo a Portovesme al fine di evitare che i continui rinvii determinino effetti irreversibili sul tessuto produttivo e sociale dell'isola La Giunta regionale guidata dal Presidente Cristian Solinas su proposta dell'Assessore regionale del lavoro Adalai ha approvato nell'ultima seduta un'ulteriore misura di contrasto agli effetti della pandemia a favore delle medie e grandi imprese della filiera dell'agroindustria e della manifattura La Giunta Solinas continua a supportare le imprese in difficoltà per lo sviluppo della nostra terra afferma l'Assessore Adalai L'intervento ha un valore strategico perché è finalizzato alla salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità delle imprese agroindustriali e manufatturiere con un numero minimo di almeno 20 addetti operanti nel territorio regionale che sono state fortemente danneggiate dalla pandemia da Covid-19 L'aiuto che sarà attuato tramite un avviso pubblico avrà un importo massimo di 50.000 euro per le medie e grandi imprese per accogliere un maggior numero di richieste La consigliera comunale di minoranza del patto civico a Carbonia Daniela Garau ha presentato una mozione al presidente del Consiglio Comunale Federico Fantinelle al sindaco di Carbonia Pietro Moritu con la quale intende impegnare con urgenza il Consiglio Comunale unitamente al sindaco e alla Giunta affinché intraprendano un'azione congiunta con tutti i sindaci del territorio ai quali l'atto deliberativo dovrà essere trasmesso volta a sollecitare gli organi competenti alla viabilità e sicurezza stradale provincia e prefetto a porre rimedio alla situazione di gravissimo pericolo in cui versa la SP2 Credo non si possa attendere oltre ha sottolineato Daniela Garau e ritengo sia anche necessario presentare un esposto denuncia alla Procura della Repubblica volta a prevenire ulteriori tragedie 90 posti in più in medicina L'Ateneo di Cagliari grazie ai decreti firmati a febbraio dal Ministro dell'Università Anna Maria Bernini e riguardanti misura ed incremento dei posti programmati ha aumentato da 240 a 330 i posti del numero chiuso per l'accesso alla facoltà Per il prossimo anno accademico dunque saranno disponibili 90 posti in più per gli aspiranti medici A darne l'annuncio ieri è stato il Rettore dell'Università di Cagliari Francesco Mola La Sardegna è tra le regioni d'Italia più virtuose per la donazione di organi e trappianti L'isola si piazza al terzo posto con un indice del 66% rispetto alla media nazionale del 59% e bassa anche la percentuale delle opposizioni fissate al 22% rispetto ad una media nazionale del 30% i particolari nel servizio curato da Maurizio Locci Quando si parla di donazioni di organi la Sardegna non è seconda a nessuno Nel 2022 infatti hanno un record per le donazioni di organi in tutta Italia con una percentuale del 3,7% in più rispetto al 2021 l'isola è tra le più virtuose La Sardegna si è infatti piazzata terza tra le regioni italiane con un indice del 66% rispetto alla media nazionale del 59% A conferma di ciò c'è anche la bassa percentuale di opposizioni pari al 22% rispetto ad una media nazionale del 30% Sono i dati emersi in Consiglio regionale in occasione della prima giornata della donazione del trappianto di organi e tessuti che si è tenuta di recente a Cagliari Una giornata celebrata non a caso il 24 febbraio giorno in cui nel 2004 in un tragico incidente aereo sui monti di Sinai morirono tutti i componenti dell'equipe di cardiochirurgia dell'ospedale Bruzzo impegnati nel trasporto di un cuore destinato ad un trappianto salvavita da eseguire nel capoluogo isolano I numeri annunciati hanno confermato che il sistema trappianti è in continua crescita e che ha superato le difficoltà legate al covid meglio di quanto avvenuto in altri paesi d'Europa A conferma anche i primi dati relativi al 2023 che si annunciano confortanti con un aumento dei trappianti del 30% rispetto al 2022 Si allarga la pianta organica del comune di San Giovanni Suergio dopo due mesi di prova ed esami 11 nuove unità lavorative sono pronte a prendere posto nei diversi settori dell'amministrazione locale del centro e del basso Sulcis sono prossimi all'assunzione infatti due assistenti sociali due strutturi amministrativi un elettricista un vigile e un istruttore tecnico nel corso dell'anno inoltre entreranno in organico anche gli altri doni in base ai pensionamenti previsti per il 2023 In un momento storico di gravi oscillazioni economiche e sociali ha detto il sindaco Elvira Usai avere un posto di lavoro statale vicino a casa e un grande traguardo di vita Un solido protocollo regolerà la nuova fase della ricerca su Monte Prama assegnando un ruolo ad ognuna delle istituzioni chiamate a operare per la tutela e la valorizzazione del sito e del complesso statuario monumentale L'accordo è firmato al Museo di Cavaras dalla Segreteria del Ministero per la Sardegna Patricia Olivo dalla Soprintendente ABAP di Cagliari Oristano e Sul Sardegna Monica Stocchino dal Soprintendente ABAP di Sassari e Nuoro Bruno Villecci e dal Presidente della Fondazione Monte Prama Antony Muroni prevede importante novità a proposito delle nuove campagne di scavo e restauro sulle quali in capo al Segretariato e alla Fondazione sono già disponibili le risorse che sono state messe a disposizione dal Ministero della Cultura e dalla Regione Autonoma della Sardegna Inizia la prima azione di promozione e valorizzazione lanciata dal Distretto del Turismo Gallura e Monte Acuto che mira a valorizzare ancora di più il nord-est della Sardegna tramite il nuovo portale www.discovergallura.it e numerose iniziative di marketing studiate in collaborazione con F-Tourism and Marketing di Joseph Ejarke non solo spiagge l'ente che coinvolge 27 comuni e numerosi operatori privati vuole promuovere anche l'entroterra con un approccio sostenibile un viaggio quello in Gallura che deve essere sviluppato tra storia, tradizioni, arte e cultura molteplici sono le proposte di viaggio inserite in un'interfaccia web semplice e intuitiva che permette di scegliere il meglio del territorio cercando di soddisfare qualsiasi esigenza il sito web includerà anche le proposte e i servizi degli operatori turistici che aderiscono e aderiranno al distretto è stato presentato ieri pomeriggio a Sant'Antio con il progetto Ludica Laboratorio di Umanistica Digitale Università di Cagliari l'iniziativa è stata illustrata in occasione di un incontro che si è svolto nell'Aula Consiliare del Municipio della Cittadina Lagunare il progetto prenderà il via quest'estate con un campo estivo di Storia Digitale Comune Italia che vedrà la partecipazione di 20 studenti universitari che vivranno dentro la cittadina insieme agli amministratori locali la realtà museale le associazioni e singoli cittadini gli studenti costruiranno un racconto della storia moderna di Sant'Antioco dalla sua fondazione settecentesca fino al novecento con attenzione specifica al rapporto della comunità con il mare una panchina bianca per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita sul lavoro ma anche per accendere i riflettori sull'imprescindibile rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro a voler restata l'amministrazione comunale di Quarto e Sant'Elena guidata da Graziano Milia che l'ha posizionata in piazza Fracasso Spolitu nel febbraio del 1976 questo fu il luogo nel quale si spezzò la vita di due giovanissimi agenti di polizia Vincenzo Fracasso e Pietro Spolitu i due polizioti a bordo della volante peridono a causa di un incidente stradale mentre inseguivano due rapinatori proprio all'altezza di via Manara perso il controllo dell'auto che a causa della forte velocità sbandò e urtò l'edificio antistante la piazza il turno infrasettimanale del campionato di eccellenza regionale dodicesima giornata del giorno di ritorno ha fatto registrare risultati importanti sia per la testa sia per la coda della classifica il pari imposto dal Carboni alla capolista Budoni che si è salvata al 92esimo dalla sconfitta ha dimezzato il ritardo del latte dolce che ha travolto 4 a 0 e ghilazza e ha allungato la squadra sassarese sulla terza il Sant'Eodoro Portorotondo che ha pareggiato 1 a 1 a Nuoro hanno vinto il Taloro Gavoi 2 a 0 sull'Arbus e l'Ossese 3 a 2 sull'Anusei sempre più in difficoltà sconfitte per la Ferrini alipunti 2 a 1 e per il Calangianus 1 a 0 in casa con la Tarros che ora è più vicina alla salvezza diretta preziosa vittoria per la Cosmoto Morastir sulla Villa Cidrese 2 a 1 e nuovo passo falso per un Sant'Elena in piena crisi battuto 3 a 1 a Bosa ha riposato l'Iglesias è la partita più attesa della giornata era sicuramente quella che vedeva di fronte la capolista Budoni e il Carbonia nuovamente una contro l'altra dopo la finale di Coppa Italia vinta dalla squadra gallurese i calci di rigore finita in parità anche questa volta con rimonta della formazione capolista al 92esimo con Giuseppe Meloni che la settimana precedente aveva realizzato la doppietta con la quale la squadra gallurese aveva vinto ad Arbus segnando fra l'altro il gol vittoria anche lì a tempo praticamente scaduto al 95esimo ma vediamo ora il servizio sulla partita di ieri terminata appunto 1 a 1 fra Budoni e Carbonia il Carbonia di Diego Mingioni ha fatto tremare ancora una volta la capolista Budoni con un gol di Ayrton Hunt al ventesimo del primo tempo ed è stato raggiunto anche stavolta al 92esimo da un gol di Giuseppe Meloni è terminata 1 a 1 la terza sfida stagionale tra le due squadre terzo pareggio raggiunto rimonta nel finale per la seconda volta nell'extra time dalla squadra di Raffaele Cerbone che una delle tre sfide l'ha fatta sua la finale di Coppa Italia da Basanta ai calci di rigore Diego Mingioni a sorpresa ha presentato un 11 iniziale con una copia d'attacco extra baby formata da Nicola Muscas classe 2005 e dall'esordiente Riccardo Lambroni classe 2007 16 anni appena compiuti dopo soli 10 minuti ha dovuto inoltre sostituire Mattia Pizzalis bloccato da un infortunio muscolare con Gabriele Dore la sfida di ieri ha riproposto i principali temi di quella di Abbasanta il Carbonia è scattato avanti al ventesimo con Ayrton Hunt sfortunato protagonista della finale di Coppa Italia quando fallì il match point dagli 11 metri al decimo rigore della serie iniziale nell'azione precedente il numero uno del Budoni aveva dovuto deviare non senza affanno oltre la traversa una conclusione della media distanza del capitano bianco blu Nicola Serra il Budoni ha accusato il colpo del gol subito e ci ha provato subito con Nicola Raimo Adam Idrissi si è opposto in calcio d'angolo il Carbonia avrebbe potuto concedere il bis al ventiseiesimo con Riccardo Lambroni poi con Andrea Porchedu e al trentottesimo con Nicola Serra Diego Mingioni al decimo della ripresa ha dovuto sostituire per infortunio anche Andrea Mastino e ha gettato nella mischia Raffaele Monteiro ex come Prieto assente per squalifica e il 2005 Alessio Ru che ha rilevato il fuori quota Riccardo Lambroni con spostamento di Fabio Porru al centro della difesa al fianco di Ayrton Hunt il Budoni nel finale ha spinto molto alla ricerca del gol del pareggio e come per il gol di Hunt è sembrato un segno del destino anche quello maturato al 92esimo quando Giuseppe Meloni sempre lui l'ex che aveva messo la firma sulla Coppa Italia con una sua doppietta ha trovato il valco giusto per battere a rete alle spalle di Adam Idrissi da pochi passi in un'azione molto confusa la vittoria che avrebbe bissato quella conquistata meritatamente sul campo dell'altra grande del girone il sassa di calcio a latte dolce è sfumata per il Carbonia al 92esimo ma la squadra di Diego Mingioni ha dimostrato ancora una volta di poter competere contro qualsiasi avversario in casa come in trasferta ed il Budoni di Raffaele Cerbone ha confermato da parte sua di soffrire il Carbonia che per tre volte è andato vicinissimo alla vittoria e ieri le ha tolto due punti pesantissimi nella lotta per la promozione diretta in Serie D perché ora il sassa di calcio a latte dolce che ha strapazzato il Ghilazza quarta forza del girone superata 4 a 0 è distante solo due punti quando mancano sette partite al termine della stagione regolare boom di iscrizioni alla solo woman run la corsa rosa solidale in programma domenica 5 marzo nelle strade del centro di Cagliari due le formule una ludico motoria di 4 chilometri e mezzo e una competitiva di 9 chilometri fulcro della manifestazione sarà la fiera madrina dell'evento la velocista Dalia Caddari campionese italiana assoluta dei 200 metri ci parla di questa vigilia della manifestazione che sta riscuotendo un successo sempre crescente Morizio Loci in questo servizio sono pronti a invadere le strade di Cagliari con allegria voglia di stare insieme sorridere correre e soprattutto sostenere tanti progetti di solidarietà sono le 12.000 donne iscritte alla Cagliari solo woman run la corsa rosa solidale in programma domenica 5 marzo nel capoluogo isolano circa 8.500 di queste sono donne che fanno parte di associazioni e gruppi le altre 3.500 sono singole iscritte le associazioni presenti sono in tutto 42 l'importante evento sportivo è stato presentato ufficialmente ieri a Cagliari dal sindaco Paolo Truzzo l'assessore comunale Marina Adamo il presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco Andrea Culedu di Gevensport Alexia Leinardi vicepresidente ASD Cagliari Atletica Leggera e Pietro Casu presidente UISP comitato territoriale di Cagliari APS la formula della corsa è quella delle scorse edizioni una camminata ludico motoria open aperta a tute di 4.500 e una corsa competitiva challenge di circa 9.500 il cuore pulsante della manifestazione sarà la fiera dove è fissata sia la partenza che l'arrivo la solidarietà sarà sempre in primo piano oltre a consentire a gruppi e associazioni di effettuare iniziative di crowdfunding in autonomia attraverso le iscrizioni la Cagliari Solo Woman Run mette in paglio tre premi per sostenere economicamente altrettanti progetti di responsabilità sociale pensati per il territorio madrina dell'evento sarà la campionessa Dalia Cadari velocista specialista nei 200 metri e atleta dal 2019 delle Fiamme Oro era l'ultimo servizio e l'ultimo spazio di questa edizione del telegiornale serale da Canale 40 grazie per l'attenzione appuntamento alle prossime edizioni con il nostro Tg buona serata a tutti Grazie a tutti